Allora Max, cosa fai a questo primo maggio? Guarda Davide, avevo pensato di andare al mare a fare una bella mangiata di pesce, poi l'idea di mettermi in macchina, in autostrada, a rischio code, sotto il sole... No, sai cosa ho pensato? Che lo voglio passare a Parma, nella mia città. È una grandissima idea, però Max, primo maggio, la festa dei lavoratori... Idea! Facciamo la festa dei lavoratori! La festa dei lavoratori, Cigelle Pan, qui, al parco Axelidania! Bellissima idea Davide, però in un parco come questo bisogna riempirlo di contenuti. Sì, sì, è la festa dei lavoratori, perciò parliamo di dignità, di libertà, di legalità, di integrazione, ogni idea. Chiamiamo gli scrittori, autori, Paolo Nori, Roberto Camurri, Salvo Taranto, chiamiamo le categorie a parlare, chiamiamo i lavoratori del Castelfrigo, della Froneri, loro hanno combattuto per la loro dignità Max, però non basta questo, ci vuole qualcosa di più, facciamo un megaconcerto! Bellissimo, il megaconcerto mi piace, ma perché non gruppi locali, tipo la Scarne Murta? Cinzano Five! Allora a sto punto anche i culpabili. Facciamo aprire un ragazzo giovane, Matt Smile, 18 anni, un rapper, è favoloso, però alziamo in tiro, Sergente Kalaka! Fantastico, Sergente Kalaka, allora io ti propongo anche Bambù! Se dici Bambù, io rispondo con Murubutu! Se tu dici Murubutu, allora a questo punto io chiamo gli Aprella Class! Allora io dico All In, Africa Unite, con System of a Sound! Un programma meraviglioso, Davide, è venuto qui così! Ma da nulla! Bellissimo! Allora guardate, io direi che ci siamo, no? Cosa dici? Possiamo iniziare, Davide! Iniziamo! Primo maggio, Parco Gex e Ridagna, grande festa, dalle 12 qui con noi, vi aspettiamo! E se piove? A Sbagniema! Ok Davide, ma ci siamo dimenticati di una cosa, in un parco così grande, se uno ha fame o sete? Nessun problema Max, la Cigolese porterà street food e cibo locale, birra, acqua, coca, fanta, chi più ne ha, chi più ne metta, siamo attrezzati su tutto! Piuttosto, e la partita? Ma la partita c'è alle 3, un quarto alle 5 è finita, mettici pure il recupero, alle 5 finisce, in 3 minuti sei qui a piedi perché ti devi perdere una festa come questa! Non manca più niente, fai il mio favore, invitali tutti Max! Mi raccomando ragazzi, vi aspettiamo!